Gestiamo un repository Git con GitFlow Workflow. Ciao, io sono Michele e in questo video analizziamo quella che è la più famosa strategia di gestione di repository Git. Come sicuramente saprai, un repository Git è composto da tanti branch. Il branching è la feature che ha reso famoso Git perché i branch sono veloci e facili da creare. E quindi negli ultimi anni, nel 2010 circa, è nata una strategia da un developer indipendente, Vincent Driessen, non so come si pronuncia il pronome di preciso perché appunto è olandese, propone nel suo blog quella che ha pensato essere una strategia che ha utilizzato in azienda e che si chiama GitFlow e la propone al mondo nel suo blog. Poco puoi immaginare che questa diventerà praticamente talmente famosa a diventare per alcuni o per molti la strategia di default con cui trattare un repository Git. Però, come lui stesso specifica nel suo blog dieci anni dopo, metto il link sotto, questo particolare modello magari non è una panacea che si adatta a tutte le situazioni. Certo, è molto utile, ma non è detto che dobbiamo partire per scontato o di default su questa. Comunque, essendo la più famosa e l'ho incontrata veramente in tantissimi posti dove ho fatto consulenza, spendiamo dieci minuti insieme per analizzarla e magari fare anche qualche esempio. Prima di addentrarci nella mia lavagna preferita a fare disegnetti, ti ricordo di mettere un mi piace a questo video se imparerai qualcosa e di iscriverti al canale, così sarai notificato appena usciranno nuovi contenuti. Andiamo avanti! Chi mi segue da un po' sa che sono un grande fan dei disegnetti sulla whiteboard, per cui procediamo a spiegare quello che è GitFlow Workflow con qualche disegno, fatto al momento. Un assunto di base della strategia del GitFlow è di avere due branch di lunga durata. Li rappresento con una freccia così. Facciamo uno blu e un altro lo facciamo viola. Questi branch durano per sempre, quindi nel repository li troveremo sempre. E come si chiamano questi due branch? Allora, il primo si chiama develop o development a seconda, l'altro lo chiamiamo master. E lo chiamiamo così. Benissimo, allora che significato hanno development e master? Allora, development è il branch dove avviene lo sviluppo quotidiano, cioè dove si chiudono tutti i... dove si aprono e si chiudono tutti i vari branch di sviluppo, i cosiddetti feature branch che tra poco analizziamo. È sostanzialmente il branch che raccoglie lo stato dell'arte dei nostri sorgenti, l'ultimissima versione, anche magari un po' instabile. Mentre invece quello che abbiamo qui sotto, master, colleziona quelle che sono le versioni stabili che abbiamo mandato in produzione. In tutta la filosofia GitFlow c'è un cosiddetto concetto che si chiama la promozione del codice attraverso varie linee, i vari branch. Si promuove il codice spostandolo da un branch all'altro. Ma vediamo come funziona introducendo gli altri attori. Gli altri branch con cui abbiamo a che fare nella strategia di GitFlow sono i feature branch che sono delle cose tipo così e li chiamiamo tipo feature e magari con una barra per indicare che ci dà un aiuto a checkout. Magari sviluppiamo una funzionalità di checkout di un qualcosa. Ok. I branch di feature sono quelli dedicati a contenere lo sviluppo di una determinata appunto funzionalità. Sono effimeri, nel senso che hanno una breve durata perché vengono creati nel momento in cui si comincia lo sviluppo di una determinata funzionalità e vengono chiusi su develop quando lo sviluppo si ritiene sia completato. Sono effimeri, in questa maniera non abbiamo una collezione infinita di feature branch, di tutte le feature che andiamo a sviluppare durante la vita di questo sorgente. Lo creiamo e dopo viene tranquillamente ucciso. Abbiamo quindi qui che vengono dei commit per creare questa funzionalità e poi si fa il merge su develop. Tipicamente qui che cosa accade? Abbiamo una bella PR, una bella pull request, dove andiamo a chiudere il branch di sviluppo su development. E così via, di questi ne abbiamo finché vogliamo. Ne possiamo avere anche che si intrecciano in questa maniera. Ok. E portano avanti gli incrementi funzionali o anche di fix non urgenti di correzioni del nostro sorgente. Quindi fin qui abbiamo detto development, stato dell'arte. Abbiamo master, ciò che è stato e che è in produzione. Quindi abbiamo qui, non li ho disegnati, abbiamo i vari commit. Che ovviamente sono molti meno di quelli che sono in development. Poi abbiamo detto feature, effimeri per sviluppo. Anche correzioni. Ok. E la mettiamo così. Adesso introduciamo un altro attore, un'altra tipologia di branch, che si chiamano i branch di release. E si collocano qua in mezzo. Cambiamo colore, così li vediamo meglio, li facciamo arancioni. Allora, cosa succede? Quando noi abbiamo sviluppato, a fine sprint, a fine interazione, chiamiamolo come vogliamo, ma arriviamo a un punto che i nostri sorgenti su development contengono le funzionalità che siamo pronti a rilasciare, cosa facciamo? Apriamo un branch di release. E lo chiamiamo, che ne so, tipo 1.0. 0 o 1.1 a seconda del nostro progetto. Che cosa succede? Che da qui stiamo dicendo, ok, ci stiamo preparando per un... il team si sta preparando per una release. E questa versione che parte da questo commit la stiamo mandando a testare o a stabilizzare. E parte in una serie di test automatici, manuali, parte in un periodo cosiddetto di stabilizzazione per verificare che il contenuto di questo commit rispecchi determinati livelli di qualità. Se durante questa stabilizzazione si trovano dei problemi andiamo a correggerli su questo branch specifico di release in maniera tale che cosa succede? Che cosa succede che gli sviluppi sulla linea di develop possano continuare indisturbati da quelle che sono le correzioni mirate e specifiche al fine di rendere stabile la release 1.1. A un certo punto la release 1.1 diventa stabile. E che cosa succede? Anche il branch di release è un branch effimero e quando si è stabilizzata la release, il branch release 1.1, lo vado a chiudere su development e su master. Facciamo due frecce e spieghiamo ulteriormente. Una freccia mi va di qua. Quindi vado a portare su master questa che è la versione che è stata stabilizzata. La porto qui, ci faccio un bel tag e dico v1.1 e la rilascio in produzione. Allo stesso modo quello che è successo qui lo prendo e lo chiudo su development. Ok? Perché? Perché non voglio avere regressioni. Facciamo così. No. Regressioni. Riportandomi le correzioni e le fix molto mirate che io ho fatto su release 1.1 in development con un merge su development, vado ad evitare che il futuro branch di release abbia gli stessi problemi che sono stati rilevati durante i test di qualità di release 1.1 e quindi non vado a perdere niente. Andiamo quindi a scrivere qui. Release è sempre un branch effimero per stabilizzare il sorgente prima di mandare su master e rilasciare in produzione. Ok. Infine abbiamo l'ultimo pezzettino di git flow. Mi devo spostare un pochino più avanti. Facciamo così. Ecco. In questo modo. Che cosa succede? Beh, facciamo intanto che prolungo un pochino le frecce. Ecco così. E proseguiamo con il nostro esempietto. Abbiamo appena rilasciato la versione 1.1. Nel frattempo i developer sono andati avanti e questa cosa continua a devolvere e gli sviluppi vanno avanti. Magari si apre anche una nuova release, perché no? Ok, no, non era rossa. Era questa arancione. Si apre così. E abbiamo la release 2.2 e così via. Il gioco tra development, feature e release continua ad andare avanti. In produzione la versione 1.1 ha un problema grosso. Ha un problema grave che compromette l'erogazione del servizio. E quindi noi che cosa facciamo? Non possiamo... Vogliamo agire velocemente per risolvere quel problema ben specifico in maniera molto mirata. Allora non possiamo permetterci di fare cosa? Prendere la... Correggere il problema in development, indagare intanto se esiste, magari il sorgente è talmente evoluto che quel bug è scomparso, non esiste più, e portarla su master, perché magari abbiamo bisogno di fare dei test manuali. Insomma, introdurremo troppe variabili, il sorgente si è evoluto, e noi vogliamo essere precisi e chirurgici. Che allora che cosa facciamo? Questa volta lo faccio rosso, perché ha una certa priorità. Apriamo un branch, qui a questo punto lo chiamiamo, che si chiama hotfix, e magari gli diamo anche un 1.1.1, perché andiamo a fare un incremento solo mirato a correggere una funzionalità con un problema grave, totalmente retrocompatibile, e lo andiamo a chiudere qui. Facciamo ovviamente i vari commit, così, che ne so, magari ci servono un paio di commit per sistemare questo codice, lo provo, chiudo e rilascio direttamente questa versione qui. E quindi mi viene fuori che taggo 1.1.1. Ok? Questo dovrebbe essere un tag, ma vabbè, portate pazienza. Un'altra cosa che devo assolutamente fare è chiudere. Anche questo su development, per lo stesso ragionamento di prima, per evitare le regressioni che la prossima release ripresenti lo stesso problema. Ovviamente se il problema sussiste ancora, però probabilmente sì, se non è evoluta, chissà quanto. Ecco, andiamo quindi a concludere qui e scriviamo hotfix. È sempre un branch, anche questo, effimero, cioè vive il tempo che serve per scrivere la correzione, poi viene ucciso e chiuso su master. Per correzioni, diciamo, chirurgiche su master. Appunto, hotfix, cioè la definizione di hotfix è un qualcosa che deve essere veramente iperpreciso, iperfatto bene e va diretto in produzione, anche in alcuni casi, saltando determinati controlli di qualità. Bam! Preso e sganciato diretto in produzione. Bene, per oggi con il workflow di Git ci fermiamo qui. Teni in mente che ce ne sono molti altri che soprattutto si rifanno a quella che è la filosofia del trunk-based development e sono delle metodologie anche più semplificate e che vanno meglio incontro a quelle che sono le dinamiche e le... sì, le dinamiche di quello che è la metodologia continuous deployment o continuous delivery. GitFlow ha appunto tutti questi passaggi che hanno un senso in determinati contesti, ma se lavori magari in ambito web dove appunto applichi continuous deployment e sei riuscito a implementare correttamente dello shift-left testing, quindi avere su master o su main una qualità già elevata ai tuoi sorgenti probabilmente GitFlow è un po' usare cannoni per uccidere e zanzare. Bene, a questo punto io ti saluto spero che questo video sia stato utile e alla prossima, ciao!